buonasera ragazze e benvenute in un nuovo video e anche buonasera ragazzi ovviamente allora oggi è la prima volta che mi vedete ci saranno anche dei ragazzi che seguono giusto a me no ci devono essere invece tutti ben accetti iniziamo bene questo mac band allora lo so che sono diciamo questa settimana un po mancata no i miei due soliti video non ci sono ai video di tutti i giorni purtroppo non riesco a farli non che io abbia chissà cosa da fare ragazzi come tutti ormai stiamo a casa io non vado neanche fare le pulizie però capito un po momento qual è quindi faccio le cose appunto quando mi sento non è per essere ripetitivo ogni volta ragazze però proprio per spiegarvi un po com'è la cosa comunque abbiamo deciso di fare questo mac bang ha innanzitutto aspettate fatemi sapere come state raccontateci cosa state facendo questi giorni in casa che tipo di pulizie come vi intrattenete comunque abbiamo deciso io e fabio di fare appunto questo mac bang con la pizza allora io mi sono fatta sono veramente pizza surgelate perché l'avevamo comprata la scorsa settimana io me la sono condita con fruste e olive e fabio invece ci ha messo ci ha messo gamberetti gorgonzola e cipolla lo so che non c'è devo per forza tenere la videocamera del telefono in questo modo vedrete più che altro me che fa che fabio che mangia ma tanto qualcuno vedrete la insomma perché in altro modo non riesco metterlo fossi da sola userei una scatola per alzare un po però comunque vedo che si vede quindi abbiate pazienza prima o poi a forza fare troverò la posizione e niente quindi ci siamo fatti appunto queste due pizze con mac bang facciamo felice allora col mac bang facciamo felice simona poi facciamo felice alessandra e poi tante altre persone che adesso non so i vostri nomi che comunque piacciono queste cose qua comunque noi iniziamo a mangiare tanto salutiamo anche tutte le amiche della sera salutiamo sì tutte le amiche della diretta tutte le amiche che ci scrivo nei commenti sotto youtube tutte le persone che mi seguono insomma un caro saluto a tutti ricordatevi ai 5 mila iscritti la sorprese ragazzi è qua su youtube non ho detto i 5 mila iscritti ci sono se non vengono se non si scrivono il mio instagram era monaflowers 1985 non partecipano le dirette beh non è che siete obbligate è solo perché va bene di come mi fa piacere non sapete le ultime novità perché fabio ho detto che i 5 mila iscritti ma che tanto ragazzi sono presa non si deve succede una sorpresa quindi una sorpresa non si dice iniziamo a mangiare buon appetito sì però lei detto invece nella diretta nella diretta poi c'è qualche intimo allora l'abbiamo svelato buonissimo per chi non lo sa top poi ragazze fate la pubblicità ditolo in giro iscrivetevi in tanti vedete ti vorrei girare un po sta videocamera che ti riprenda anche un po te ecco così è meglio e ragazze che dite non mi vuole stare vicino vicino tu puoi starmi vicino vicino vieni ma se siamo attaccati non riesco a mangiare ma l'avevamo fatto e avevi mangiato benissimo aveva pure cartone che ti imbarati sono un po di spazio comunque vedrete un po la testa si porta via però stiamo così comunque il mio amore ha cucinato i gamberetti no che lui si rimessi sulla pizza invece sulla pizza non mi piacciono me li mangio così e quindi l'ho già assaggiato uno prima che bontà bravo siamo tutti i due in pigiama come vedete ma ormai è sera ma poi non in casa sta come vuole forse li ho fatti qua c'è un po troppo ma sono gustosissimi e niente allora ragazze raccontateci un po punto speriamo di andare in freddo st'estate da fare qualche giorno prima di tutto speriamo che la salute c'è la prima cosa importante starebbe al di salute poi lo so come diranno anche le nostre amiche ai nostri amici e da tempo che devo sistemare qua che stare a casa non è facile ci si annoia si ci si intrestisce ci si sguerva e dura per tutti però devo tenere duro perché tutto questo prima o poi comunque passa pensate che stare a casa piccato lo fate per il vostro bene infatti per la vostra salute ma non dobbiamo parlare loro perché loro sono rigorosissime dobbiamo parlare a quelli che in generale generale di coloro nel senso in generale a quelli che li vedo passeggiare pure qua quando vado a fare la spesa passeggiano anziani gente di 45 ragazzini 45 persone abbiamo beccato un gruppo di ragazzini cioè insomma ma state a casa se non avete da lavorare state a casa cioè altrimenti non lo usciamo più un casino è oltretutto sapete benissimo che c'è una bellissima applicazione di animali per i bambini ma anche per i grandi veramente bello gli animali in 3d dove ci vengono diciamo proiettati in casa e tu fai le foto e sarei film con questi animali veramente bello sappiamo benissimo ragazze che c'è finché non c'è un vaccino dovremmo vivere con certe restrizioni anche se ci liberano un po adesso stanno dicendo che il 3 maggio è allungato fino a 3 maggio la quarantena torniamo benissimo che dovremmo vivere con delle restrizioni con la distanza con la mascherina fino a quando non ci sarà un vaccino se ci impegniamo tutti ne usciremo più forti e meno di prima perché secondo me ragazzi io non è che voglio rompere in tutto il momento col mac bang su queste cose perché non sono sono anche tristi però almeno a me personalmente ricordate quando avevo fatto un mac bang dove praticamente così vedono meglio però non vedo mamma io non so come sistemare ragazze abbiate pazienza importante che ci vediamo parliamo un po perché hai detto comunque buona nel pezzo la tua buona 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 perché ragazze e ragazzi io ho capito una cosa detto questa storia ricordate come vi stavo dicendo prima quando stavo iniziato a dire prima vi avevo fatto un mac bang dove comunque vi dicevo che non so se volevo stare qua e mi annoiava ma adesso mi rendo conto che la vita la libertà le cose che ti annoia non sono queste c'è nel senso non poter più avere la propria libertà di andare dove si vuole di fare cosa si vuole ma siamo minacciati da una cosa così grave e quello che c'è le altre sono tutte cavolate queste sono cose serie sotto dalla vita delle persone la salute la prima cosa che ha fatto non si fa nulla quando finisce tutto questo adesso partiamo facendo un po farmi fa un po di domande e io rispondo è non finisce tutto questo cosa vuoi fare cosa guarda a me va allora vi dico me la prima cosa è tutto ripeto stare bene la seconda cosa è andare a fare una bellissima passeggiata magari nei boschi dovremmo andate lo scorso estate magari poi vi porteremo con noi faremo vedere dove praticamente è nel senso però passeggiata con il mio amore con il nostro cane fare un bel picnico partire al mattino è andato di traverso la pizza è andato di traverso la pizza guarda il suo uccellino scusate dovresti stringerti un po veramente perché ti vedono meglio è un video fatto un po così poi mi piacerebbe vabbè mi piacerebbe andare in montagna mi piacerebbe andare a trovare i tuoi farci una bella mangiata a me mi mancano due d'aletta anche a me mancano tanto infatti volevo mandare se guardano video un bacione di nuovo presente ai miei suoceri sui genitori un bacio a tutti alla mio cognato mia cognata e alla nostra nipotina faremo una bella mangiata quando ci vediamo poi mi manca la pizza della domenica con i miei con mio fratello sarà un appuntamento fisso mi manca andare a fare un giro a torino bello torino già cavoli fabio quando parliamo dobbiamo guardare quando l'obiettivo perché se no evidente come se non le guardassimo devo ricordarci che guardiamola proprio il pallino lì ma una ragazza di voi me l'aveva fatto notare la ragione avevo perdonati mi devo prendere l'abitudine perché non è facile ti perdi non è che ti viene perché ti sembra un po da stare sono troppo naturali siamo e come mancano tanto queste cose il butto di sta mascherina e non vedere più sorriso della gente che avevano quelle insomma sono le cose che vorrei fare niente di speciale come tutti no penso la libertà stare bene lo ripeterò sempre l'avevo già detto all'inizio di capodanno al primo dell'anno la salute la prima cosa nel video del primo dell'anno se vi ricordate ho detto questa frase e tu invece comunque c'è una ragazza di nome stefi di carpinetti che mi chiede di salutarla la saluto ma mi sembra forse una volta anche la mia amica alessandra mia grande su proprio come una sorella che mi supporta molto ma che su di salutarla allora saluto anche a lei ciao alle ciao alle beauty e saluto tutte voi è ovviamente tutte e tutte chi c'è da sempre chi è nuovo eccetera e invece a te fabio chiediamo fabio anche non ci piacerebbe fare dopo questa quarantena a parte fino a posto è già riuscire anche dall'attuale l'attuale l'attuale in queste cose qua quello che è come prestato è più certo non è che veramente penso quando vai da un amico qualcosa fa è l'abbraccio dell'amicizia stringersi la mano abbracciarsi queste cose qua come vedono quando finisce questa cosa di andare a trovare il mio amico orreste abbracciarmelo ciao amore perché è questo quello che fino adesso abbiamo capito che comunque l'abbraccio e e tanta cosa se infatti dobbiamo aggiungerti un amico un'amica è bello quello che manca ragazzo aveva conosciuto la famiglia su qualità mia madre mio fratello mia nipote stringermela forte se mi mancano anche un abbraccio questo abbiamo conosciuto una famiglia splendida come ho detto già l'altra volta nei due video fa avete visto tutte le mie amiche con quale abbiamo creato una bella amicizia in diretta è tutto e anche con voi anche loro sono presenti tutta la sera si è creato un particolare l'apporto no che c'è l'obbligo di di partecipare tutte le sere voglio dire una cosa nata così no ragazze però abbiamo conosciuto non sempre fantastico sia veramente gente che sembra quelli che siamo fratelli e sorelle c'è una complicità un gente proprio l'aspetto attraverso attraverso la videocamera davvero anche proprio questa complicità di affetto e di amicizia persone sincere ma veramente di cuore persone brave come i giorni abbiamo conosciuto veramente delle persone ma fantastiche ma come sono fantastici che loro sono fantastici che tutte le ragazze e ragazze che mi seguono tutti e non facciamo differenze però abbiamo creato questo particolare legame appunto come vi ho spiegato prima per via della diretta che è aperto a tutti era ragazzi e ragazze ma io non faccio differenze cioè mi fa piacere che ci siete tutti e comunque volevo dirvi no avuto piacere quello che diceva fabio che ha nominato appunto il suo amico reste che è anche mio amico che avuto il piacere di conoscere sempre tramite youtube appunto la mamma di oreste che si chiama saide che avete visto la prima signora che in due video fa fa vedere i limoni e queste cose qua abbiamo creato una bellissima amicizia con lei con suo figlio e anche suo marito che sul marito non l'abbiamo ancora conosciuto fisicamente no e ci stiamo veramente dando tanto supporto in questi giorni tra videochiamate su whatsapp e videochiamate su instagram e telefonate messaggi di tutto e con oreste dovremmo fare un sacco di cose quindi vedrete poi più in là delle novità più che altro per quanto riguarda l'oreste poi lo farò conoscere perché un ragazzo veramente di 22 anni 22 23 22 23 ragazzo ragazze educato con la testa sul collo con la testa sul collo che veramente di quell'età non se ne vedono molti e io li voglio un sacco di bene come se fosse mio fratello minore vi dico la verità e fabio la pensa uguale anche con sua mamma veramente quindi non vediamo l'ora abbiamo detto una delle prime cose che faremo saremo vederci con loro e con tutti quelli che vogliono vedere sì passare una giornata insieme anzi più giornata perché abbiamo io resto abbiamo delle cose da fare poi capirete poi più in là e con tutti quelli che vorranno l'idea è anche un giorno di riuscire a incontrarvi chi vorrà a metà strada in un paziente il centro italia praticamente già con queste ragazze che fanno la diretta c'è questa intenzione prima o poi di incontrarci tutte prende il centro italia perché tanto si viene ognuno da l'anno c'è veniamo tutti o da ogni parte dell'italia dal nord sud centro e il centro quindi la metà e fa vederci fare due parole mangiare fare un bel picnic assieme come diceva anche ieri sera side e quindi questa cosa aperta tutte proprio perché ho capito anche da questa storia come dicevo appunto queste ragazze oggi che molto spesso ti sembrano più vicine le persone che sono lontane di quelle che hai vicino anche se sono lontane ti riescono a dare un supporto morale un aiuto ti non so ti calmano e questa è una bella cosa a volte la distanza si è brutta fa fa ma poi queste dirette salari fanno sentire l'avvicinanza la comprensione c'è gente che ragazze che arrivano da da roma gente dal veneto però veramente sembra come se fossero qui si chiacchiera tutta la sera si ride si scherza è bello sto momento perché ti fa anche nella leggettività di questo momento c'è questo momento bello ti fa svagare un po la mente bello che ti fa comprendere anche tante cose dei valori della vita veramente tutte le ragazze fantastiche e se lo dice fabio credetemi se ve lo dice fabio che riguarda ripeto tutte loro quelle che mi seguono tutte fabio non è uno da tante parole non è uno che si attacca facilmente se ve lo dice lui è perché veramente siete preziose poi per esempio devo dire sempre grazie questo a una ragazza che appunto salutato anche prima e che si è attaccata tantissimo me e come io mi sono attaccata tantissimo lei che si chiama appunto alessandra le beauty 20 20 date la seguire su instagram vedete il lavoro bellissimo che fa vende prodotti di ottima qualità ragazzi andate a seguirla perché andate sul sicuro c'è di tutto dai trucchi prodotti per l'igiene andate a seguirla su instagram su instagram alle beauty 20 20 sta ragazza qua mi dà un sacco di idee di video mi sempre vicina si preoccupa per me abita pensate in lombardia no però mi proprio vicina come se fosse qua che abitasse qua nel condominio vicino e la ringrazio tanto davvero che sappi che anche per me sono una sorella e ti voglio bene anche a te e poi devo nominare l'altra ragazza l'avete viste adesso ci sono sono giunte anche nicoletta e simona di roma che saluto un bacio siamo diventati amici con nicoletta e simona sì sì almeno che sono amici è vero poi c'è antonella che l'abbiamo visto nel video antonella franca stefi e spero di non poi c'è franci e no tanto nella franca si poi c'è franci anche grazie di tutto veramente un bacio spero di non aver di non aver scordato nessuno sono un amico appunto della diretta con quale abbiamo creato un profondo rapporto e adesso deve se ne stanno aggiungendo altre e quindi venite veramente facciamoci compagnia ogni tanto e ma non è per è proprio perché mi fa piacere comunque scusate se non guardo nell'obiettivo era proprio mi scordo devo fare una lezione ramona flower passate mi seguite su ramona flowers 1985 ramona flower 1985 vi divertite ragazze passate una serata diversa ridiamo scherziamo parliamo di cose di ogni argomento di vedete fabio che fa gli spogliarelli no quello no e non ho più fisico adatto per fare gli spogliarelli non è vero quello però non è caduto su instagram ma andrà mai riporto anche il solito fatica finire la pizza guardate ragazze che appunto sono mi mancano solo due pezzi e poi niente volevo dirvi questo apriamo allarghiamo sempre di più la famiglia ramona flowers noi ci divertiamo è veramente tanto galloletti sono raffreddati non sono sempre buono se ne vuole molto bene condimento al fatto è messo l'erba cipollina non ho mai messa di rende gustoso comunque sarà già la terza volta che ve lo chiedo ma perché mi sembra sempre che non riesco finire il discorso quindi scrivetemi nei commenti raccontatemi quello che state facendo lo so che non più che pulire certo e mangiare diventeremo 200 kg però ci stiamo vicino ma insomma meglio che niente fate che mi fa piacere avere i vostri commenti e rispondermi è bello il nostro abbigliamento bello abbigliamento notturno casalingo l'altro giorno parlavo tre formi fratello mi ha dato di traverso l'acqua e cosa che volevo dire raccontateci anche voi le prime cose che farete quando questa in questo periodo sarà finito sono curiosa da quanto tempo che non vedete vostro è da sempre da quando c'è la quarantena c'è che i genitori capitano uno sotto un altro sopra o c'è da 10 metri da casa che non so chi ha amici lontani o qualche parente che vorreste rivedere qualche amico caro che vi fa piacere quando lo vedete cosa cosa fate con loro comunque è scoppiata la primavera ogni giorno ogni giorno c'è un tempo bellissimo un sole caldissimo infatti adesso ragazze voglio appunto adesso volevo farlo già prima ma poi alla fine abbiamo fatto altro cioè adesso abbiamo preparato le pizze ma domani vado giù a tirare le mie piante che come avevate visto in un video avevo messo nel solaio e ne metto fuori perché ora stanno bene non più fuori adesso che dentro poi il bello di tutta sta gente abbiamo conosciuto in questi mesi la cosa che mi piace che non ammazza delle risate proprio è bellissimo sentire i vari dialetti mamma mia qualcosa di spettacolare napoletano romano veneto proprio la cadenza che hanno tutti gli accenti i dialetti siciliano siciliano che uno dei miei dialetti preferiti come sanno le amiche della diretta veramente bello vuole dire la sera cosa fate magari guardate un film ma io adesso da quando faccio queste dirette film praticamente più niente che pagate la televisione a parte che mi piace fare se direte c'è più niente scusate ma dell'altra televisione offre poco poco e niente è vero che non hai netflix maggio prime tutto la roba lì allora è un altro discorso che già meno male che non li va perché sennò sarei sempre lì sopra dal mattino alla sera dal mattino alla sera poi dopo tanto sento i gambaretti io sono piena ragazzi da scoppiare mamma mia no è acqua io ti metto l'acqua grazie ho pure pure viziato fateci sapere cosa fate cosa fate cosa fate niente cosa mangiate a pasqua qual è il menù pasqua e pasquetta riuscita a farlo con qualche parente noi stiamo da soli qua la cultura non è perché praticamente lo abbiamo tutti i genitori vabbè non mi fate questo è stato un po vicino però non possiamo andarci noi siamo sul confine con un altro paese la gente attaccato se sono vicino però non possiamo andarci una trentina chilometri dove abitiamo adesso siamo io dai qualcuno di voi abita insieme i genitori che oppure non so nello stesso piano condominio che riesce a fare qualcosa insieme la cosa che mi fa arrabbiare di quest'anno che tutti gli anni a pasqua o faccia freddo o pioveva quest'anno c'è un sole che spacca le pietre davvero mamma mia mamma mia che fastidio comunque finita la pizza ragazzo non ho finito proprio non ho molto da raccontarvi perché sapete purtroppo la vita che conduciamo è così quindi un momento anche un po quello che però io comunque spero che vi abbia fatto piacere vederci che di scambiare due parole mi raccomando scriveteci qui sotto nei commenti vi auguro se non riesco a far uscire un altro video di questa settimana mi raccomando iscriveteci sempre fabio sei numero uno fabio sei migliore fabio sei bellissimo non dimenticatevi se non siete ancora iscritti iscrivetevi ragazze mi raccomando 5000 iscritti sorpresa 5000 e attivata anche la campanella così almeno ogni volta che esce un video vi arriva l'email la notifica e io spero che il video vi sia piaciuto spero di avervi tenuto compagnia speriamo di avervi tenuto compagnia scusate ma devo digerire ragazze abbiate pazienza ho fatto la pizza un po troppo pesante pesante e spero che le ha fatto ripeto non so ma io non ricordo anche quello che dico sono proprio fusa spero che vi abbia fatto piacere vederci a me ha fatto molto piacere e anche a fabio lasciate un like mettete il pollice in su se il video vi è piaciuto se non esce un altro video entro domenica spererei di sì un altro tipo di adesso vedo non mi assicuro niente comunque la prossima settimana domenica e lunedì sono a casa la prossima settimana recupererò si va bene non mi dico entro domenica comunque se in caso non uscisse più nessun video entro domenica io vi auguro anzi vi auguriamo buona pasqua e buona pasquetta con tutto il nostro cuore ragazze e ragazzi e ci vediamo nel prossimo video ciao bacione grande è un abbraccio grande ciao ciao ciao